Buonasera, ben trovati e benvenuti per chi è qua per la prima volta. Allora, continuiamo il nostro racconto, il nostro cammino attraverso la mostra, attraverso i temi che la mostra spero che abbiate visto un po' tutti. E sapete quindi di che cosa stiamo raccontando con la mostra? Stiamo raccontando le avventure, le vicende di quei funzionari dello Stato che negli anni della guerra sono riusciti a salvare il nostro patrimonio sia dagli eventi bellici stessi che dalle razzie anche dei tedeschi che hanno appunto potuto prenderci, insomma, molti cavolavori. Come abbiamo potuto raccontare questa mostra? L'abbiamo raccontata anche attraverso la collaborazione, la mostra è in collaborazione, con l'Istituto Centrale del Catalogo della Documentazione, con l'Istituto Luce e abbiamo anche però un esponente della Cineteca Nazionale. Lo dico perché se dobbiamo raccontare delle storie storicamente appunto, quella è una documentazione della quale non abbiamo potuto fare a meno e la mostra credo che lo dimostri abbondantemente. Dunque lascio a Paolo Conti di presentare i nostri relatori di oggi, che ringrazio moltissimo di essere qui e gli do subito la parola. Grazie. Grazie a tutti e a tutti di essere qui. Sarò telegrafico perché questa sera i relatori sono tri, però è bello ricordare che il tema è fotografie e pellicole di guerra in guerra che inevitabilmente proprio in questo periodo ci rimandano alla forza che le immagini generali hanno nel racconto di questa guerra nel cuore dell'Europa e che ci riporta inevitabilmente alla mente ciò che abbiamo visto in questa mostra. Questa mostra che a sua volta sarebbe semplicemente impensabile senza la fonte e la documentazione più contemporanea a disposizione che sono le immagini ferme delle fotografie e le immagini in movimento dei film. Viviamo in una contemporaneità che è fatta di questo, di immagini, di ricordi audiovisivi e visivi. Quindi questa è una mostra da questo punto di vista molto sperimentale. Vi introduco molto rapidamente i nostri tre relatori, prima in ordine alfabetico, ma ci sarà poi un altro indirizzo durante le relazioni. Ho chiesto ai nostri gentilissimi ospiti, essendo tre, di parlare entro i 25 minuti perché questo è il tempo che abbiamo a disposizione. Dalla mia sinistra Carlo Birrozzi, direttore dell'Istituto Centrale del Catalogo e della Documentazione, il quale ha un ruolo molto preciso perché attraverso di lui sono passate le scelte principali e più eloquenti del materiale audiovisivo che voi avete visto durante la mostra. Patrizia Cacciani è invece il responsabile dell'ufficio studi e dell'archivio storico dell'Istituto Luce. Lei ci parlerà, poi lo vedremo, di un avventuroso e straordinario recupero da 40 anni, di moltissimi giornali di guerra e combat film, proprio quelli che avete visto e vedete nella mostra. Marina Cipriani è responsabile dell'area della conservazione e dell'innovazione digitale del centro sperimentale della cinematografia e invece a sua volta, come contrapasso, racconterà una grande ferita di una ruberia, di un furto, di un vulnus che è stato fatto al nostro patrimonio con il furto di filmati molto rari che ancora vengono ricercati. È avvenuta nel novembre 1943 da parte di nazisti che erano già, lo racconterà lei stessa, ben consapevoli del valore di ciò che ci stavano sottraendo. Questo è il quadro narrativo di questa serata. Ecco, qua si conclude il mio compito. Prego, Carlo Birrozzi. Buonasera. Grazie, buonasera a tutti. Sono molto felice di essere qui, come sono molto felice di avere partecipato a questa mostra che racconta in qualche modo l'attività dell'amministrazione alla quale appartengo. Faccio un brevissimo escursus dell'ICCD perché se tutti conoscono, perché il nome lo dice l'Istituto Luce e la Cineteca Nazionale, forse per chi non è storico dell'arte l'ICCD non è così noto come istituto. L'Istituto del Catalogo ha il compito di documentare il patrimonio culturale italiano, i beni culturali. Lo fa in due modi, nella redazione di schede descrittive dei singoli aggetti e anche attraverso la fotografia. Do qualche data per collocarlo storicamente. 1861, Italia Unita. Francesco De Santis, Ministro della Pubblica Istruzione, chiama Cavalcasella e Morelli per andare nelle Marche e in Umbria a vedere che cosa fosse il patrimonio culturale contenuto in queste due regioni, in che condizioni fossero. In quel periodo l'Italia è percorsa, probabilmente fino al Lazio, da antiquari inglesi, americani che sono intenzionati e interessati a comprare soprattutto fondi oro e opere d'arte del Quattrocento. Bellissima la descrizione che fanno della sacrestia del Duomo di Urbino in cui la flagellazione è usata per appoggiare la tonaca prima di entrare in chiesa e se ne sta preparando una copia perché l'originale dovrebbe prendere la strada dell'Inghilterra. Questa è la situazione italiana in quel periodo. Nel 1863 Cavalcasella scrive al Ministro è ora che cominciate a fare un inventario di quello che c'è in questo paese e dall'inventario passate al catalogo. Nello stesso testo dice e raccomanda di utilizzare la fotografia come strumento di documentazione. Lui userà moltissimo la fotografia, forse uno dei primi storici dell'arte italiani ad utilizzare la fotografia per lo studio delle opere d'arte e essendo uno storico girovago e frequentando molto il nord Europa, soprattutto l'Inghilterra, avrà la possibilità in questa attività di connoisseur e di storico dell'arte di fare della fotografia un grande strumento di studio e di conoscenza. Nel 1870 più o meno segue i restauri di Assisi, della chiesa di San Francesco di Assisi e lì mette a punto effettivamente le capacità di questo strumento che era nato 40 anni prima, siamo nel 1840, più o meno la nascita della fotografia, 30 anni prima per documentare anche l'attività di restauro ed è un conoscitore e un utilizzatore di questa materia estremamente raffinato. Arriva ad utilizzare la luce e l'inclinazione della macchina fotografica per dare il senso della materia che sta descrivendo e che sta trattando. Quindi sulla scorta di questa indicazione il Ministero della Pubblica Istruzione, non c'era ancora il Ministero della Cultura, attraverso la Direzione Generale Antichità e Belle Arti comincia un'attività sistematica di documentazione fotografica delle opere d'arte del territorio italiano, monumenti e opere d'arte contenute nei musei, contenute nelle chiese, distribuite su tutto il territorio. Attività sistematica che ha dato origine a quel fondo che vedete conservato in mostra, dove leggete MPI, MPI sta per Ministero Pubblica Istruzione e quindi la Direzione Generale Antichità e Belle Arti avvia questo enorme lavoro di documentazione del patrimonio che porta alla realizzazione di diverse centinaia di migliaia di fotografie. Ed è forse il patrimonio più interessante che in questo momento il mio istituto conserva. Il Ministero della Pubblica Istruzione utilizza per la realizzazione di queste immagini fotografi di soprintendenza, fotografi esterni, per cui abbiamo anche attraverso questa attività la conoscenza dei principali studi fotografici italiani, dai fotografi di Alinari, a Broggi, a Henderson, Moscioni, eccetera, eccetera. Abbiamo la storia della fotografia italiana di quegli anni. Nel 1895 si fonde il Gabinetto Fotografico Nazionale, cioè l'impresa è talmente importante e talmente significativa che il Ministero decide di fondare un proprio gabinetto fotografico sotto la spinta di un toscano, Tosco-Ligure Emiliano, perché viene da quella zona spuria tra le tre regioni, che è Gargiolli, che decide e dà impulso alla fondazione di questo gabinetto fotografico, che produce quindi fotografie dall'interno, con una visione del tutto particolare sulla attività di documentazione del patrimonio. Prossimo capitolo, 1907. Corrado Ricci è direttore generale per le antichità e belle arti, fonda il bollettino d'arte, che chiamerà Arti e che sarà il principale strumento di divulgazione, di riconoscimento, di attività di confronto dei funzionari del Ministero tra loro e con il mondo culturale esterno. Uno strumento importantissimo attraverso il quale si forma la consapevolezza e la coscienza di appartenere ad un'amministrazione che ha un compito, che ha un ruolo. Nel 1918 con Ugo Oietti sperimenta l'importanza della fotografia. 1915-1918 Sodalizio Oietti, Corrado Ricci, per documentare i luoghi di guerra della Prima Guerra Mondiale. Anche in quel momento si verificano i danni, si documentano le attività di salvaguardia messe in moto a Venezia, in Veneto e nel Triveneto per prevenire le distruzioni di guerra. Soprattutto Venezia, che sarà bombardata anche dal mare, tutte quelle città che avevano anche la possibilità di essere bombardate dal mare, vengono sperimentate queste strane protezioni fatti con sacchi di sabbia, oppure ci sono progetti di protezione con lastre di piombo per le coperture, eccetera. Questo è il primo momento e si sperimenta anche, in quel momento è molto importante, la dimensione oltre che culturale della fotografia ma anche quella di propaganda. E le liti fra Oietti e Ricci nasceranno proprio su questo, perché ovviamente Oietti usa la fotografia in un modo profondamente politico, ideologico, diventerà lo strumento contro l'impero austro-ungarico. Quindi quando l'Italia entra in guerra, nella Seconda Guerra Mondiale, lo strumento fotografia è uno strumento dell'uso ormai consolidato e l'amministrazione è già forte e strutturata, è già forte e strutturata, ha una visione e comprende profondamente il proprio ruolo. Quindi le soprintendenze e l'amministrazione centrale cominciano a documentare i danni di guerra, cominciano a documentare con la fotografia le misure prese per la salvaguardia dei monumenti, quindi le immagini che si vedono del cenacolo con i sacchi di sabbia, dello spostamento delle opere, vengono realizzate proprio su impulso dell'amministrazione centrale, che chiede alle soprintendenze di documentare e chiede che una copia di tutte le fotografie venga inviata a Roma. L'archivio quindi si alimenta con migliaia di fotografie e nel 1947 viene pubblicato il primo volume su 50 monumenti danneggiati dalla guerra. Quindi è immediata la reazione che l'Italia, che l'amministrazione della cultura ha alla distruzione del patrimonio culturale e la visione è talmente chiara e profonda dell'importanza dello strumento, della narrazione visiva di quello che sta succedendo che questo volume viene pubblicato anche in inglese. Quindi si ha proprio la consapevolezza del lancio. Le posso fare una domanda rapidissima. Il 1947 significa appunto subito dopo la guerra, in tempi quasi potremmo parlare... È una reazione violentissima, immediata. Allora quello che però viene spontaneo chiedersi, che tutto questo avviene su una base che era stata comunque governata da esponenti fascisti. Allora la domanda è come mai questa reazione è nata, potrei capire fosse avvenuta nel 1950, già con l'arrivo di nuove generazioni, come mai è stata così rapida nonostante i vertici fossero stati fascisti fino a pochi mesi prima? Sì, diciamo che l'impulso grande dell'amministrazione avviene attraverso Bottai nel 1938. Nel 1938 è la conferenza dei soprintendenti, si nasce l'esigenza di una legge per la tutela dei monumenti, siamo alla vigilia della guerra. Si ha la forza di produrre le leggi fondamentali per la tutela. La risposta è che queste leggi le fanno persone che non sono fasciste, cioè la forza di Bottai è quella di dotarsi del supporto e dell'aiuto di comunisti, perché troverà Argan, Brandi, tutta una serie di intellettuali che sopravviveranno a lui. E quindi è per questo che c'è stata questa reazione. Quando nel 1950 il bollettino d'arte propone questo primo volume sui monumenti restaurati, la prefazione la fa Pane, Roberto Pane. Quindi vuol dire che c'è la consapevolezza e la volontà di mettere a sistema quello che c'è di meglio nella cultura italiana. Pane è forse il principale esponente del restauro in Italia in quel momento, ed è Pane che cura questo volume. Quindi c'è una reazione fortissima, immediata, proprio perché l'anima dell'amministrazione non era così fascista. Penso che possa bastare così per adesso. Non so se... Come cride, perché poi pensavamo solo tre interventi. Ah, ok, tre interventi. Quindi il fondo è così importante perché appunto fin dal momento in cui questi eventi iniziano, i fotografi delle amministrazioni locali vanno sul territorio e cominciano a fotografare, documentano e mandano a Roma. Quindi le raccolte fotografiche sono molto dettagliate, perché l'amministrazione ha ormai, proprio con una riforma del 1939, voluta da Bottai, una rete di 58 uffici sul territorio. Quindi è una rete molto capillare. E alcune persone che avevano lavorato, che lavoravano nelle soprintendenze, avevano già vissuto l'esperienza della Prima Guerra Mondiale. Le faccio una, visto che abbiamo ancora alcuni minuti per lei. Guardando le foto che scorrono, si vede una qualità tecnico-professionale molto elevata. Che tipo di preparazione c'era per i fotografi che venivano mandati in queste operazioni? Queste immagini che vedete alle mie spalle non sono foto del Gabinetto Fotografico Nazionale, quindi non sono foto di personale interno, ma sono foto dei professionisti tra i migliori che erano disponibili sul territorio, perché abbiamo foto Broggi, Alinari, Anderson. Sono professionisti di grandissima qualità che vengono pagati dalle soprintendenze o dall'amministrazione centrale per andare sul territorio a fare questa documentazione. Ma anche il Gabinetto Fotografico Nazionale aveva elaborato una propria capacità di osservazione e di documentazione. La qualità, anche scorrendo le immagini rapidamente, colpisce una qualità di... Sì, diciamo che negli anni, da quando appunto si comincia a lavorare con la fotografia, quindi negli anni 70 dell'Ottocento, si elabora anche la teoria su come fotografare, che cosa fotografare. Si passa dal dettaglio singolo, cioè dall'oggetto che viene scontornato, alla invece comprensione dell'importanza del suo contesto, del luogo in cui è rappresentato. In questo caso sono proprio i luoghi da fotografare che sono importanti al di là dell'oggetto, proprio la situazione. E essendo tutti dei grandi professionisti, ovviamente ci restituiscono delle immagini di grande qualità. Le faccio un'ultima domanda, però guardando al futuro, che genere di approccio c'è adesso col digitale? Perché mi interessa anche guardare un attimo col futuro, ma non le chiedo una relazione, le chiedo veramente una risposta. No, è una risposta che le dovrei dare fuori da qui, perché questa storia purtroppo in qualche modo si conclude, ossia si assottiglia negli anni 70. Cioè il bollettino d'arte ha continuato a produrre documentazione, articoli e documentazione fotografica su questi temi fino agli anni 70. Già nel 1950-51-52 ci sono i primi articoli sui nuovi riallestimenti dei musei. Nel 1952 mi pare c'è un articolo sul Pol di Pezzoli riallestito, nello stesso anno su Brera. Brera verrà mostrata, sventrata completamente con la neve dentro le sale, perché è senza copertura, e solo tre anni dopo o quattro anni dopo dalla fine della guerra cominciano i lavori e viene riallestito il museo nel 1952, viene inaugurato. Non è così veloce come è successo per la Scala, perché Toscanini dirige il famoso concerto, pochissimo tempo dopo la chiusura della guerra, ma è una reazione anche questa molto veloce, che tarda un po' perché viene elaborata una nuova museologia, cioè il museo non viene riallestito così com'era, ma c'è un pensiero forte dietro i nuovi allestimenti. Fernanda Wittgens a Brera non sposerà questo modo di vedere i musei, però il Castello Sforzesco sì, e architetti come Albini, Scarpa, eccetera, daranno vita a forse le più grandi opere di architettura italiana, di museologia dell'Europa di quel momento. Che cosa succede adesso? Diciamo che la centralità dell'istituto è un po' venuta meno, perché l'abuso della fotografia non ci ha aiutato, cioè sapere che è molto facile fare fotografia, soprattutto con il digitale, e che è molto facile fare documentazione, non ci ha aiutato, cioè sapendo che lo possiamo fare sempre, non abbiamo reagito con la stessa velocità con la quale abbiamo reagito all'invenzione dello strumento. Quindi sarebbe oggi molto difficile fare una mostra di questo genere su eventi tipo il terremoto dell'Aquila, il terremoto del centro Italia, perché materiale ce n'è molto, ma forse non è descritto perché è troppo, perché tanti fanno documentazione, e quindi il ruolo della documentazione è venuto un po' meno. Il fatto che in rete è disponibile moltissimo ha fatto venire meno il ruolo di creare una propria documentazione. Invece bisogna recuperare, secondo me, quella visione che c'era, che era una visione non dell'importanza della documentazione, ma dell'importanza di un'amministrazione come quella della cultura, perché era una scelta corale, quella di dare un messaggio, di esserci, di essere presenti, di fare delle scelte importanti e condivise. Questo è un ruolo che in qualche modo vogliamo recuperare. Tutto questo materiale che vedete è digitalizzato ed è disponibile sul portale fotografia del Ministero della Cultura. Stiamo avviando la digitalizzazione delle 400.000 lastre in corso adesso, il lavoro del Gabinetto Fotografico Nazionale, e continuiamo a fare documentazione partecipando a tutti i progetti che ci sono disponibili all'interno del MIC, non più con fotografi interni, ma facendo lavorare artisti, autori e giovani professionisti. Con un occhio che è molto difficile da gestire in questo momento, perché anche la fotografia ha una sua autonomia linguistica, molto difficile recuperare quel linguaggio che era tipico del Gabinetto Fotografico Nazionale, che ci dava delle immagini molto asciutte del singolo oggetto, del singolo monumento. Non so se ho risposto. Grazie, Carlo. Grazie. Grazie, grazie mille. Ho risposto benissimo. Grazie, infinite. Adesso la parola a Marina Cipriani che ci racconta appunto questa pagina del 1943 che è un giallo storico. Adesso lo scopriremo insieme. Prego. Questa sera volevo appunto raccontarvi, proverò a raccontarvi una vicenda che ha influenzato molto la nostra storia, la storia della mia istituzione e che purtroppo non essendo una vicenda lieto fine possiamo definire come una ferita, una ferita mai sanata del Centro Sperimentale di Cinematografia. Per chi non lo conosca, il Centro Sperimentale è una fondazione, è una fondazione ed è l'istituzione più importante nell'ambito della ricerca, della sperimentazione nel campo della cinematografia appunto. Il Presidente è Marta Donzelli e si fonda sull'attività di due settori fondamentali. La scuola che ha una sede a Roma e delle sedi distaccate, la Cineteca Nazionale che rappresenta l'Archivio Nazionale per la Cinematografia Italiana, riceve il deposito legale e in tutte le leggi che hanno ribadito dal 1949 questa sua funzione, il suo patrimonio è definito di pubblico interesse. Ma appunto facciamo un passo indietro. Non so se possono aiutarmi per le slide che avevo... Il centro sperimentale nasce nel 1935 e viene istituito con un decreto prefettizio e la sua realtà viene poi confermata da una legge del 1942 che lo rende un ente pubblico di fatto e di diritto. Ma nasce soprattutto come scuola. È una scuola con un preciso programma didattico. Nasce perché formi professionalità del cinema, professionalità che debbano sicuramente passare verso l'apprendimento della tecnica e devono fare appunto sperimentazione ma sicuramente debbono anche questa preparazione tecnica deve basarsi su una preparazione culturale molto solida. Questo è un pensiero condiviso dal primo direttore del centro sperimentale Luigi Chiarini che è un intellettuale di milizia gentiliana, un scrittore, un letterato. e vuole appunto che il centro sperimentale produca al suo interno sin dal 1935 due realtà fondamentali. Una biblioteca che conserverà le pubblicazioni italiane e straniere sul cinema in particolare concentrandosi appunto sulla storia del cinema ma anche sulla tecnica cinematografica e una cineteca. La cineteca è una raccolta di film come si dice nella pubblicistica del tempo vecchi e nuovi italiani e stranieri che vengono utilizzati per la formazione degli allievi. Due volte a settimana gli allievi assistevano alle proiezioni che venivano presentati dagli loro docenti e ne facevano oggetto di dibattito. Nel nostro archivio storico che peraltro è stato di recente interessato in una schedatura di un riordinamento scientifici molto importanti da cui appunto traiamo moltissime delle informazioni per la ricostruzione anche di questa particolare vicenda troviamo molti elaborati degli allievi che appunto tentano degli esercizi di critica cinematografica avendo visto i film al centro. Quindi una cinemataca nasce con un'intenzionalità molto forte lo ricorda Freddi per esempio in un suo Luigi Freddi il primo direttore generale per la cinematografia nel 1949 cercavano i film sistematicamente li reperivano sul territorio nazionale soprattutto in quei depositi dove giacevano film che avevano finito la loro vicenda come dire pratica di diffusione attraverso le sale quindi una ricerca sistematica intelligente a cui si unirono due importanti disposizioni legislative nel 1938 nasce il monopolio per l'acquisto e l'importazione e la distribuzione dei filmi stranieri dicevo le case americane la Fox la Metro la Paramount abbandonano il paese e vengono liquidate le pellicole che giacevano nei loro depositi vengono consegnate al centro sperimentale di cinematografia che acquisisce così si arricchisce di moltissimi titoli stranieri in particolare americani nel 1940 il ministero decide che il centro sperimentale deve essere il centro di raccolta di tutte le pellicole infiammabili presenti sul territorio italiano e il centro sperimentale si adegua organizza i propri spazi per l'accoglimento di queste pellicole in un inventario datato 12 agosto del 1942 la Cineteca conta 346 film Mario Verdone figura molto importante per la storia del centro sperimentale fu anche conservatore fra gli altri ricorda che nel 1943 la Cineteca contava poche unità in più 348 film qui ho elencato solo pochissimi dei film e forse appunto dei capolavori che facevano parte di questa raccolta come potete vedere italiani stranieri è rappresentato il cinema muto più importante vi erano anche dei film diciamo tecnici come l'inquadratura di Renato Mai e l'attore di Umberto Barbaro ho sottolineato qui tre ma sono solo diciamo alcuni esempi tre titoli di cui forse più diffusamente diciamo accennerò dopo che sono appunto fra le grandi perdite di questa cineteca per la ricostruzione chiedo scusa erano copie uniche quindi erano copie uniche esattamente erano copie uniche c'era una concentrazione sostanzialmente di copie uniche tra l'altro copie che avevano in alcuni casi una caratteristica non erano passate alla censura o erano state per esempio non erano state accettate non avevano neanche circolato in Italia quindi erano veramente delle assolute rarità per ricostruire questa vicenda ci aiuta ancora l'archivio in particolare della documentazione che noi definiamo abbiamo intitolato appunto i diari di guerra è un documento molto la cui scrittura è estremamente asciutta burocratica essenziale in cui appunto troviamo nel dettaglio ciò che avvenne in quei momenti in quei mesi terribili al centro sperimentale ma in cui si sente fortemente anche una carica emotiva una tensione che denota appunto uno stato di grande difficoltà dovete infatti immaginare che il centro sperimentale diventa luogo di acquartieramento delle truppe di occupazione tedesca diventerà campo di concentramento dei prigionieri angloamericani ma appunto dopo l'8 settembre dopo la fuga del re in una situazione di grande sbando delle istituzioni cinematografiche il centro sperimentale chiude il 30 settembre e vengono licenziati i docenti allontanati gli allievi e rimangono soltanto alcuni dipendenti qualche funzionario che si occuperà di gestire di proteggere il più possibile il patrimonio del centro sperimentale e alcuni operai che peraltro si occuperanno il centro sperimentale diventa un orto di guerra il 5 ottobre fa capolino questo personaggio che è assolutamente centrale nella nostra storia che è il tenente Robert Van Dalen visitano il centro sperimentale per organizzare la requisizione dei macchinari e dei materiali utili alla produzione cinematografica ricordiamo che in questo momento molte istituzioni si spostano per raggiungere Venezia dove si tenta la costituzione di un polo cinematografico alle dipendenze della Repubblica di Salò il centro sperimentale non far parte cederà appunto andranno lì molti dei suoi macchinari ma non farà parte di queste istituzioni resterà in piedi a Roma ma forse questa condizione lo esporrà ancora di più ai saccheggiamenti delle truppe tedesche il 9 ottobre requisiscono i nostri primi 11 film questo è un documento che attesta è una sorta di ricevuta di requisizione si va avanti il 31 ottobre Van Dalen si reca di nuovo al centro per prendere visione dell'intera collezione Robert Van Dalen è un profondo conoscitore del cinema è un esperto di cinema fa parte è un tenente della Wehrmacht ma soprattutto fa parte del ministero della propaganda del Reich e evidentemente si accorge dell'importanza di questo nucleo filmico tanto che ne dispone il 9 novembre la requisizione completa qui c'è un primo tentativo da parte dei funzionari di resistere alla requisizione lo implorano di non trasferire altrove questi film perché dicono alla fine non sono così importanti forse non hanno più un valore commerciale sono solo dei film che facciamo vedere agli allievi ma ovviamente non riusciranno a diciamo ad avere un esito positivo il 17 novembre viene effettuato il prelievo e la destinazione è il Reichsfilm Archiv di Berlino il 25 novembre viene redatto l'elenco ufficiale di requisizione timbrato dal Sonderkommando Roma che enumera i film sottratti 313 fra negativi e positivi di proprietà del CSC e di deposito fra i quali appunto molti americani di cui abbiamo parlato prima la lettera accanto mi piace sempre citarla perché è una lettera riservata del direttore del tempo Adolfo Smidile il quale comunicando il suo superiore dice vi assicuro che bisogna avere i nervi apposto per non tralignare perché come vi dicevo il centro sperimentale è occupato il diario racconta di continue devastazioni distruzioni assolutamente gratuite anche delle pellette degli strumenti appunto che servivano per la formazione degli allievi distruggono le scenografie il pianoforte e tengono i funzionari in grande diciamo sono estremamente sono guardati a fista non possono attraversare per esempio i corridoi del centro sperimentale e questo è l'elenco definitivo e nella presentazione alla lista si dice che per la requisizione non è prevista e non sarà mai concessa alcuna indennità che cosa abbiamo perduto vi ho detto che nella lista vi erano degli assoluti capolavori i film presi al centro sperimentale si considerano sostanzialmente perduti per sempre e voglio sottolineare quando parliamo della cineteca del centro non parliamo di una cineteca italiana ma della cineteca italiana era la più importante collezione nazionale di film raccolti in un unico diciamo luogo e soprattutto fruibili quindi era una realtà assolutamente unica nel paese solo alcuni esempi sperduti nel buio è un film realizzato nel 1914 da Martoglio e Danesi ed è un film che fu definito fra questi da Umberto Barbaro come il film premonitore l'antesignano del neorealismo italiano è un film importantissimo perché anticipava alcuni meccanismi di montaggio il montaggio di contrasto per esempio mette in luce una storia sociale in cui appunto si evidenziano le differenze esistenziali tra la società abbiente colta e invece i miserabili del tempo le immagini che vedete purtroppo non sono della pellicola ma di questo film abbiamo poche immagini tra l'altro il centro sperimentale conserva un importantissimo rarissimo album fotografico Sole è la prima opera di regia di Alessandro Blasetti è un film in cui si racconta una battaglia anche lì sociale le popolazioni delle palude in pontine insorgono perché stanno per essere allontanate si utilizzano in questo film attori presi dalla strada sono i veri contadini che vivevano nelle paludi solo molto velocemente accenno al ragazzo di Ivo Perilli del 1933 di cui non abbiamo neanche un'immagine quelle immagini di Sole peraltro sono un ritrovamento straordinario la Cineteca Nazionale a distanza di tempo ha trovato il primo rullo di quel film forse anche quello scampato alle requisizioni di ragazzo non abbiamo nulla sostanzialmente ed era un film molto particolare in cui un giovane della borgata romana fa un suo percorso esistenziale finisce anche per redimersi in qualche modo anche grazie al fascismo ma viene questo film viene bloccato e rifiutato da Mussolini che lo vede e impedisce la circolazione di questo film perché? perché veniva girato nelle miserabili borgate romane fu realizzato in particolare sui pontoni del Tevere e questa immagine non era accettabile per il tempo e anzi suggeriva che nelle file del fascismo alla fine potessero arrivare ragazzi degli sbandati dei mascalzoni anche noi abbiamo degli eroi Umberto Barbaro molti testimoniano Mario Verdone testimoniano che appunto sfuggendo alla sorveglianza delle truppe tedesche alcuni funzionari del centro sperimentale riuscirono a salvare poco purtroppo alcune copie dei film un atto di disubbidenza insomma importante come vi ho detto chi fu Mario Verdone ricorda Alfredo Boncompagni che era un segretario amministrativo e forse Luigi Raggi che era un ex allievo e fungeva un po' da tutor degli allievi in quegli anni erano fra i pochissimi funzionari che erano rimasti al centro sperimentale io faccio una mia ipotesi perché si parla di un fedele guardiano e lì un poveretto un guardiano quello che proprio magari si occupava agli orti di guerra probabilmente Pietro Comandini fu uno dei nostri eroi Robert Van Dalen è il protagonista di questa storia il nostro carnefice e questa è una rarissima fotografia Robert Van Dalen sfugge il suo archivio è stato smembrato e distrutto io ho trovato pochissimi brandelli delle sue carte questa è una foto è lui centrale che se la ride da giovane è un personaggio singolare vi dicevo un esperto di cinema fa parte del ministero della propaganda ma stranamente non esce mai dall'Italia lui non tornerà in Germania mentre i tedeschi risalgono la penisola non tornerà in Germania ma sarà attestato nel nord dell'Italia un po' a Venezia un po' a Milano addirittura farà parte di questo comitato di liberazione austriaco l'altro documento è un permesso di soggiorno che lui fa arrivare per la moglie e i suoi figli già nel 1944 si occuperà sempre di cinema sarà a capo di una struttura di import-export di film tedeschi e austriaci e farà anche l'attore farà un paio di film lo vediamo qui peraltro mi incuriosiva farvi vedere sulla sinistra come sia accanto a un nostro attore Carlo Interman che è stato un allievo del centro sperimentale a cui evidentemente il suo collega aveva fatto tanto male e la ricerca di questo nucleo inizia subito nel 1944 la direzione generale del ministero un ostinatissimo funzionario Venturini comincia a scrivere peraltro proprio al Vandale e al ministero di propaganda per farsi restituire i film e c'è un incontro nel febbraio del 44 fra esponenti della cinematografia italiana e tedesca in cui il ministero chiede con forza la restituzione perché la cineteca costituisce un patrimonio artistico di notevole interesse per il nostro paese arriva qualche risposta sì forse i film stanno per partire mancano solo alcune lettere di vettura ma non arriva nulla di fronte all'insistenza del ministero alla fine nel 1945 nel gennaio del 45 il ministero risponde che non si possono inviare i film che non si accetta che i funzionari del centro sperimentare era stata una nostra proposta e vadano lì per riconoscerli e quindi portarli via si propone un indennizzo che viene con sdegno rifiutato al ministero tedesco Umberto Barbaro intellettuale di formazione marxista regista sceneggiatore è commissario straordinario del centro sperimentale ne fa una battaglia personale importantissima lui comincia intanto a fare delle indagini attraverso un'altra figura gigantesca di quegli anni che è Francesco Pasinetti e Pasinetti attenzione è un uomo molto vicino al comitato di liberazione nazionale e quindi fa un'indagine e scopre che probabilmente questi film sono arrivati a Berlino vicino a Berlino a Starpel Barbaro continua a scrivere al comitato di liberazione nazionale a questa realtà psychological for a war for branch che era una sorta di propaganda angloamericana di controllo dei media agiva appunto su un controllo di tutti i mezzi di comunicazione per chiedere se appunto in quella confusione insomma in cui si trovava ancora il paese appunto si potesse avere qualche informazione su questo nucleo filmico Barbaro è quasi costretto a difendersi quando arriva al ministero una dichiarazione proprio del Van Dalen era stata fatta un'altra indagine nel 46 il Van Dalen testimonia che i film sono stati trafugati non sono stati trafugati ma sono stati asportati perché il centro sperimentale l'ha chiesto perché ha chiesto alle truppe di occupazione di prenderli in cura di salvarli e di portarseli a Berlino Barbaro è furibondo ricorda in una lettera non solo l'atto di coraggio il tentativo di sottrarli alla requisizione ma dice appunto che il Van Dalen è appartenente alla risma dei criminali nazisti tenta di giustificare il malfatto dichiarando spuderatamente il falso Barbaro continuerà scriverà al ministero degli esteri interesserà le ambasciate russe e inglese perché nel frattempo si pensava che diciamo fossero stati stoccati in un'area in cui c'era stata l'avanzata russa e quindi insomma in qualche modo fossero arrivati a Mosca ma le risposte o non arrivano o sono molto evasive scrive Arranuccio Bianchi Bandinelli direzione generale delle belle arti è una lettera estremamente cordiale si conoscono con Bianchi Bandinelli e lo implora di aiutarlo a recuperare questi film che costituiscono un patrimonio nazionale artistico insostituibile e di primissimo ordine la risposta è negativa Bianchi Bandinelli risponderà che l'ufficio recupera si occupa soltanto di opere d'arte quindi di opere d'arte che stanno nei musei e nelle gallerie semmai semmai di ambito di territorio occupati dagli angloamericani il centro sperimentale continuerà a fare ricerche negli anni 50 in particolare altre figure molto importanti Fausto Montesanti uno studioso un critico un esperto di cinema muto diventa appunto conservatore nel 51 interesse cioè il congresso FIAF la FIAF è la più importante federazione degli archivi di cinema del mondo e raccoglie appunto sono affiliate alla FIAF tutte le cinetagli archivi cinematografici del mondo dà notizie ai delegati di questa vicenda e chiede aiuto appunto per ritrovare i suoi film il russo Solovey all'oscuro si dichiara all'oscuro di tutti si impegna a fare ricerche ma non non arriva mai una risposta nel 53 Fausto Montesanti riesce a rintracciare Richard Kass Kass era il direttore del Rijksfilm Museum quando all'epoca della vicenda addirittura le casse con i film erano proprio dirette alla sua attenzione e manda una lettera molto dettagliata in cui dice sì i film in modo generico effettivamente dicine città sono arrivati a Berlino li ho trasferiti a Meseritz perché Berlino veniva nel frattempo bombardata e poi a Kostebrau in un deposito murato non essendo più presidiati probabilmente sono caduti in mano ai russi oppure sono stati distrutti da un incendio continueranno i funzionari delle istituzioni a cercarli c'è corrispondenza negli anni 70 Guido Cincotti nostro conservatore viaggerà nelle cineteche d'Europa con la lista in mano per capire se qualcosa è arrivata in queste cineteche o si è ancora salvati e così faranno molti studiosi di cinema negli anni 90 purtroppo come dicevano non è una storia a lieto fine perché di questi film purtroppo ancora non abbiamo alcuna notizia grazie vi avevo promesso un giallo storico terribile naturalmente come esito purtroppo per tutti noi e per il nostro patrimonio culturale nazionale e purtroppo questo giallo c'è stato devo dire impressiona anche la vicenda di questo signore di questo criminale nazista che imperversa sarà un altro film mi fermo qua perché bisogna dare la parola a Patrizia Cacciani che invece ci racconta un contrapasso come dicevamo poco fa di un recupero che sembrava impensabile prego io vorrei dire due parole sull'azienda io vorrei due parole di presentazione dell'azienda intanto ringrazio tutti ringrazio moltissimo di essere qui e del partenariato che abbiamo creato per questa bellissima mostra qualche parola sull'azienda poi vorrei che fosse proiettato il film che è uno dei filmati che sono nel percorso espositivo e perché da quello poi partirò per il mio ragionamento allora noi ci chiamiamo adesso Cinecittà S.P.A. quello che siamo siamo un'azienda in parte industriale con gli stabilimenti cinematografici di Cinecittà e in parte culturale con tutto quello che apparteneva all'istituto Luce S.P.A. e alla holding di Cinecittà cioè la pluralità editoriale di questa azienda se voi entrate nel nostro sito Cinecittà punto com troverete tutte le attività che compongono le due anime dell'azienda io mi occupo sono la responsabile dell'ufficio studi dell'archivio storico dell'istituto Luce e mi occupo appunto di archiviazione documentale di approfondimenti di studi e di ricerca e della didattica legata a questi materiali Marina prima ha detto che rannuncio Bianchi Bandinelli che è in mostra perché lo vedete nel viaggio del 38 tra Mussolini e Hitler accompagnarli parla soltanto delle opere d'arte ma del resto il codice dei beni culturali riconosce autorevolezza ai nostro patrimonio filmico e fotografico soltanto nel 2004 quindi diciamo non è così strano che all'epoca avesse dato quella risposta come del resto quel ragionamento sul 47 fatto prima il governo parri e il governo dei comitati di liberazione nazionale danno un input fortissimo alla cineteca nazionale e all'istituto luce l'istituto luce vivrà una vita difficile nella fase iniziale ma nel 47 ci sarà un decreto che chiude l'istituto nazionale luce lo trasforma poi la trasformazione avverrà nel 62 perché viene considerato uno strumento di servizio per lo Stato cioè lui poteva realizzare tutta quella produzione e distribuzione cinematografica no fiction che sarebbe stata utile per le aziende e per le attività dello Stato questo per dire il patrimonio è un patrimonio no fiction un patrimonio composto da cinegiornali documentari repertori che vanno dalla fine degli anni dieci e da oltre tre milioni di fotografie che vanno dalla fine degli anni dieci fino al tutto il 2000 noi abbiamo acquisito altri fondi autoriali questi fondi autoriali ci portano alla guerra dei Balcani subito dopo il 2000 se vogliamo far vedere il filmato un' l'u' 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 un' l'u' 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 un'escritti di Stiocchia del Plozzo. E' uno dei più grandi globi in la mondo. Postbare, handgeschriebene Urkunden werden von deutschen Soldaten in die Engelsburg getragen. Die Abtei von Monte Cassino, wie sie die Jahrhunderte überdauerte. Und nach der Zerstörung durch die angloamerikanischen Luftgängster. Nach dem Bombenangriff legten diese Schänder der europäischen Kultur das Feuer schwerer Artillerie auf die Trümmer der Benediktiner Abtei. Das ist geblieben. Allora, questo filmato è stato rinvenuto in una ricerca. La storia del luce è una storia molto difficile. È una storia che segue la storia del fascismo e del paese. Noi avremo, come dopo il 25 luglio e dopo l'8 di settembre, due eventi che nella nostra azienda saranno dirompenti. talmente dirompenti perché poi il luce andrà una parte di esso, una parte consistente di esso andrà a finire nella Repubblica Sociale Italiana a Venezia. Volevo partire però da questo filmato perché avete visto questo è un filmato in lingua tedesca. È un cinegiornale Fokenschau, sono i cinegiornali tedeschi del periodo della guerra, ma è stato preso da luce al National Archives of Recording of America di Washington. Cioè questo è un cinegiornale di guerra tedesco requisito dagli americani e trasformato in repertorio americano. E la storia è molto simile a quella nostra. Allora, 25 luglio cade il fascismo al posto di Mussolini viene nominato Pietro Badoglio. A luce succede che vengono prodotti dei cinegiornali chiamati badogliani perché per dare discontinuità con quelli che erano stati realizzati sapete i cinegiornali sono quelle piccoli cortometraggi che non durano più di 10 minuti composti da singoli servizi con tematiche diverse e che venivano proiettati in sala prima della proiezione del film fiction. Il luce aveva il monopolio della produzione e della distribuzione dei cinegiornali. Questi cinegiornali sono nove in tutto ne sono rimasti soltanto due e sono prodotti dal nei 45 giorni appunto del governo Badoglio dal i due che mancano sono quelli che vengono distribuiti tra il 20 e il 23 settembre del 43 non casualmente e hanno una particolarità ricominciano con la numerazione cioè diventano uno due tre quattro cinque sei sette otte nove e non danno seguito alla numerazione che era rimasta dei giornali di guerra dell'istituto nazionale luce prima di Badoglio questo per dare discontinuità e per questo vorrei leggere un piccolo passo di una pubblicazione della professoressa Fiamma Lussana che ha fatto la storia della nostra azienda dal 25 al 45 in cui dice per segnare il nuovo corso politico dopo una pausa di due settimane i giornali del luce cominciano da capo la loro numerazione all'inizio dell'agosto del 43 insieme ai due due servizi dedicati alla capitale si trasmette con estrema sobrietà un pezzo della durata di un minuto e mezzo intitolato patriottiche manifestazioni si svolgono per le vie di Roma inneggiando al sovrano e al maresciallo Badoglio il servizio si apre inquadrando soldati armati dell'esercito allineati di fronte al vittoriano che ascoltano il programma del re con il quale si annunciano le dimissioni di Benito Mussolini e la nomina del maresciallo Pietro Badoglio a capo del governo segue un'immagine di folla festante per le strade alla capitale il filubus 115 percorre il tragitto da Largo Chigi a Piazza Santa Maria Maggiore attraversando Via del Corso con un manifesto esposto sul davanti che ritrae il nuovo capo del governo il filmato si conclude con frotte di persone esultanti che distruggono i simboli del fascismo sui muri della città e camion e autobus stravieni di persone che sventrano la bandiera italiana significativa la scelta del luce di mostrare le manifestazioni di esultanza popolare solo a Roma e non nel resto del paese e altrettanto significativa la scelta di dedicare alla fine del regime un servizio molto breve nel quale non si fa minimamente escenno alla figura del successore del duce quella del luce è insomma una cronaca vera ma circoscritta come se si volesse dar conto in modo obiettivo della realtà registrando fedelmente l'esplosione di gioia delle masse popolari per il crollo del regime e attendere però lo sviluppo degli eventi prima di sbilanciarsi a favore o contro del nuovo corso girano pagina ma fino a un certo punto il luce poi viene trasferito a Venezia dopo l'8 settembre dopo l'8 settembre e per l'esattezza ricomincia la produzione dei cinegiornali l'11 ottobre del 43 ma non è immediata la produzione di questi cinegiornali perché la struttura deve essere organizzata l'allora direttore generale Giuseppe Croce che poi diventerà il commissario straordinario per la realizzazione della nuova sede dell'istituto luce a Cinecittà fa un'opera di come dire di recupero cosa fa? Prende questi sette numeri gli ridà il numero vecchio per cui l'1 ritorna ad essere il 367 e le ingloba nei cinegiornali prodotti durante la Repubblica Sociale propaganda e quindi questi sette numeri danno continuità alla vecchia numerazione del cinegiornale luce che era stato prodotto a Roma in realtà quelli successivi cioè quelli che verranno poi prodotti durante il periodo della Repubblica Sociale sono sono di più sono diversi la struttura che viene costruita dentro Venezia abbiamo fatto un lavoro di ricognizione purtroppo l'archivio storico dell'istituto noi siamo archivio storico di interesse nazionale dal 1997 questo riconoscimento fa sì che abbiamo tutta una serie di obblighi sulla tutela e sulla vigilanza del nostro patrimonio ma il cartaceo la documentazione cartacea è andata grandemente perduta per cui è nostro interesse fare ricognizioni presso altri archivi in uno di questi archivi una delle ricognizioni che abbiamo fatto l'anno scorso è quella della Biennale di Venezia dove abbiamo dove è stato c'è stata messa a disposizione l'archivio delle carte istituzionali e nelle carte istituzionali è stata trovata la convenzione firmata allora postuma nel 45 dall'allora commissario straordinario Nino da Roma che era un giornalista con il presidente della Biennale dove si dice che il luce a luce veniva data la possibilità di occupare il padiglione della Gran Bretagna della Jugoslavia della Polonia delle arti visive per poter dare spazio alla propria strumentazione e a tutto quello che riguardava la produzione tenete conto che questa convenzione si consumerà terribilmente perché Luigi Freddi che non amava l'istituto luce non sostiene l'istituto luce nella Repubblica sociale non lo amava e non lo aiuta contrariamente che cosa che fa invece nei confronti della Cines che altrettanto si trova a Venezia all'indomani della Costituzione della Repubblica sociale la Repubblica sociale viene considerata formata con il discorso del 18 settembre del 43 quando Mussolini viene liberato dal Gran Sasso questa restituzione dei materiali del luce si consumerà fino a quasi gli anni 60 perché nella convenzione c'è scritto che il luce doveva ripristinare le condizioni dei padiglioni perché i padiglioni erano di proprietà delle nazioni che le avevano realizzate e questo avrà anche altre sedie altri spazi in un albergo in un teatro insomma nel cinevillaggio dei giardini della Biennale insomma una serie di punti differenziati quindi si ricomincia questa produzione dei cinegiornali ma i cinegiornali quando la guerra finisce quelli di Venezia non tornano a Roma non vengono non viene ripristinato la documentazione non torna all'archivio all'istituto luce o meglio torna ma è parziale frammentaria spesso i cinegiornali sono privi di servizi e molto spesso sono privi di colonna sonora nel 1993 all'indomani della liberazione della protezione della documentazione della seconda guerra mondiale la mia precedente la dottoressa Franca Cicciani insieme ad una freelancer l'archivio producer Diana Rogers vanno al NARA e cercano i materiali combat per raccontare la guerra anche dal punto di vista degli alleati Roberto Olla ne farà un libro importantissimo proprio in quegli anni nell'andare a rinvenire questa documentazione come è successo per questo Focanschau che voi avete visto ritrovano i giornali luce C reperiscono tutti questi cinegiornali erano stati requisiti dagli americani tenete in considerazione che la sede storica dell'istituto nazionale luce che ora è il luogo di conservazione del nostro patrimonio filmico nonché del laboratorio di tecnologia integrata che si trova a piazza di cinecittà in quella cinecittà mussoliniana dove da una parte c'era l'istituto nazionale luce dall'altra parte il centro sperimentale e i teatri di posa di cinecittà diventa la sede degli alleati per moltissimo tempo diventa la sede del servizio comunicazione degli alleati e cinecittà diventa una sede di sfollati molti sfollati vanno a vivere dentro cinecittà il film Fabiola che è la prima produzione che viene fatta dentro gli stabilimenti cinematografici di cinecittà usa questi sfollati per fare le grandi masse quindi immaginate come il cinema poi no la storia il cinema il cinema la storia si mescolino progressivamente e quindi cosa succede noi acquistiamo i combat film che sono in particolare la risalita della quinta armata dallo sbarco a Pantelleria fino a Milano nell'acquistare questi materiali per utilizzarli noi siamo un'azienda che fa riuso del materiale filmico quindi fa nuove produzioni nelle nuove produzioni ci può essere una mostra come questa bellissima dell'arte biberata che è in partenariato ma ci sono anche mostre che facciamo noi libri fotografici prodotti televisivi chiedo scusa lei ha usato il verbo acquistare che vuol dire che abbiamo comprato i combat film l'ultimo ordine è arrivato nel 1996 però i cinegiornalici ci sono stati restituiti non sono stati acquistati non ce li hanno restituiti in pellicola ce li hanno restituiti in supporto di due se qualcuno di voi sa è come se uno improvvisamente dovesse conservare VHS e non è proprio semplicissimo quindi immediatamente è stata realizzata la digitalizzazione poi sono stati fatti ulteriori aggiornamenti di questa digitalizzazione perché questi supporti questi supporti analogici ormai sono deperibili e non ci sono neanche gli strumenti per poterli leggere Marina ha citato Pasinetti Pasinetti anche Brelluce sarà una persona di incredibile importanza gli operatori luce presenti a Venezia gireranno la liberazione di Venezia perché fanno parte dei comitati di liberazione nazionale di cui Pasinetti era il capo nella sede veneziana quindi come le storie personali le storie delle aziende si intreccino questo è un po' il tratto comune di questa mostra che mette in evidenza come scelte individuali coraggiosissime siano state il motivo di poter continuare a beneficiare di questi patrimoni che possano essere di diversa natura o diversa consistenza domanda conclusiva con cui chiudiamo questo incontro c'è una cosa sullo sfondo che aleggia anche nella contemporaneità la radice audiovisiva diventa bottino di guerra cioè nel senso l'acquisizione la si prende la si acquisisce finisce appunto nelle mani del vincitore questo è diciamo qualcosa che significa per la nostra contemporaneità voi maneggiate audiovisivo noi senza quei racconti non avremmo un pezzo di storia allora io credo che avere la possibilità di avere così facilità di approccio nei confronti del mezzo che possa produrre video o fotografie non significhi fare documentazione fare documentazione significa avere la responsabilità di quello che si guarda quando mi trovo a raccontare ai ragazzi nelle mie lezioni dico sempre anche il dal vero sono sempre parziali perché io ho una cinepresa e se includo un'immagine ne escludo un'altra e quindi devo assolutamente essere capace di poterla raccontare al mio meglio io quando vado da loro dico allora se io faccio una fotografia a voi mentre state in aula potrebbe essere una giornata normale della vostra lezione ma se voi poi riprendete me no è quel giorno in cui Patrizia Cacciani è venuta a farvi lezione e quindi la data è documentabile ecco io credo che la responsabilità di chi si occupa di cineteca di archivi di centri di documentazione sia questo la capacità di conoscere analizzare approfondire e rendere sempre più patrimonio questa documentazione per poi restituirla noi abbiamo un sito archivioluce.com che è molto utilizzato utilizzato in tutti i modi dalla singola persona che si ritrova in una circostanza per assurdo puro caso al docente che ne fa un utilizzo perché è fonte documentaria per la storia del novecento all'artista all'artista che estrapola magari la parte visuale del documento per farne un'opera visuale grazie ringrazio ringrazio voi per l'attenzione ringrazio Carlo Birrozzi Patrizia Cacciani e Marina Cipriani per le loro bellissime prolusioni e vi do appuntamento a giovedì 16 marzo dove avremo un appuntamento davvero rilevante come questo naturalmente che però assume un particolare significato per la storia che Mattie ci racconterà Mattie come sapete è un grandissimo archeologo che è protagonista di grandi scoperte ad Ebla e nello stesso tempo ha dovuto assistere a una parziale devastazione di ciò che lui aveva scoperto e quindi ci racconterà il tema della guerra all'arte grazie a tutti buona serata grazie a tutti